Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio sulla PlayStation 3 In questo episodio giocheremo a Fortnite E come potete, vabbè, stiamo facendo una partita a coppia Anche se alla fine giocheremo singolo E come potete vedere sono abbastanza scarso Poiché sono di livello basso E poi non ci gioco, cioè ci sto giocando da poco tempo Allora, adesso appunto vedremo un attimo se vincere no Vanno arrivare, non lo so, tra i primi 20 in una partita Alcune di delle partite qua, grazie per la scala che non ci serve a niente Ok, siamo a 93 No, io sto con un altro dito che non so chi sia Ecco, blidoo 94 E comunque scrivete sotto nei commenti se volete appunto fare un altro video Cioè se volete altri episodi su Fortnite Allora, vediamo se fanno partire questa partita Siamo in 91 Non riusciamo mai ad arrivare a 100 Alla fine delle partite che io ho giocato Mentre, come ho già detto, non sono forte Allora Vedrete lo schifo che è in me in questo gioco Però comunque, credo che vi piaccia Scrivetelo sotto nei commenti Lascerò un sondaggio Ecco, siamo partiti Andiamo a vedere la mappa Ok, allora Fammi vedere Possiamo andare qua Ai... A... 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 Achino... Taci Penso di andare per di là O lanciamoci Diciamo, tuffiamoci Penso che stiano allo lato opposto Però è uguale Vediamo, diciamo, dove capitiamo Cioè, io non utilizzo tanti che sono qualsiasi cosa a caso non se riesco ad arrivare anche se non vorrei essere una cosa proprio lontano poi c'è un botto di gente forse meglio di no ecco tipo la paracadute sto andando dei posti dove di sicuro non c'è il mio compagno però non mi importa atterriamo io ovviamente sto giocando con ps4 come avete di sicuro visto ok c'è una pistola potrebbe essere buono nel caso incontrassi qualcuno cioè io ecco mitraiettrice ottimo cioè dobbiamo un attimo studiarci una tattica noi siamo al centro proprio nel centro dove penso che siamo stare potremmo stare pure qua un accamperarci però un po di tempo andiamo a vedere un attimo in giro ma vediamo se riesco a costruire una scala per andare da là no eh mi serve più il legno ok vediamo se riusciamo a buttarla giù ok seleziono no ok vediamo se di qua c'è qualcosa una casa vabbè qua c'è questo la benda piccoglie niente molto importante proprio nel resto sembra niente andiamo qua prendiamo un massimo un po di materiali ci possono servire qua c'è una porta che ci porta fuori ecco siamo dentro al centro forse ci dobbiamo con un attimo vedere il nostro compagno mi sa che è morto già ok siamo quasi alla top 50 diciamo come un inizio ok qua abbiamo questo che non mi ricordo come si chiama però c'è io di nomi so poco che niente andiamo a vedere se c'è qualcuno le vicinanze io mi inizio pure ad avvicinare verso di là che mi sa che sto tipo in magazzini magazzino infine vabbè la città dei magazzini anche se qua forse sei nella posizione migliore perché la sto proprio al confine insomma vedo nessuno non voglio che voglio cercare pure di fare almeno qualcosina durante questa partita meno una chielo qualcosa vediamo qui sopra forse potrebbe essere un posto migliore fammi chiamo tipo una scala qua ecco tipo qua così ah ecco c'è pure no c'è niente insomma che era una cassa non è niente ecco forse questo qua non è tutto buono però basta di più così si spara è una mitraglia no? c'è il magno io non so cercherei di avvicinarmi un po' al magazzino ovviamente cerchiamo di fare un po' più nascosti possibile in modo che che se venga gente non ci veda ok si sta rimpicciolendo forse no poi si rimpicciolisce dopo siamo nella toppe vabbè un 50 mi sa pure da un bel petto che quasi è una toppe 40 però ho fatto poco che niente mi avvicino un po' sperando che non incontri nessuno di tanto forte perché comunque 40 c'è ancora un bel po' di gente ok vediamo un attimo potrebbe è probabile pure che non ci sia passato nessuno però ne dubito ok siamo nella toppe 40 anche ok così sale però non c'è niente andiamo un attimo se possiamo fare qualcosa ah ecco c'è un po' di roba ecco posso di questo poi posso fare un bel posto questo che è meglio poi che c'è c'è tutte le bende no oh no vabbè una granata potrebbe essere utile mettiamo vabbè no poi qualche c'è mitraio ok allora siamo proprio nel limite siamo nei vicini oltre le mappe non le conosco per niente allora non so dove ci so oppure delle chest segrete oppure no cioè non so niente infatti mi controllo un attimo ecco questo dovrebbe essere migliore penso e questo invece vabbè no teniamoci questo qua beh non lo so forse ho fatto pure una cosa non buona però meglio di niente comunque qua c'è passare sicura la gente perché ci so cosa per terra siamo una top 30 stanno iniziando a morire abbastanza velocemente la gente ecco vabbè siamo dentro al ok dobbiamo cercare pure diciamo un nascondiglio ad esempio qua possiamo metterci anche dove non lo so forse non è proprio facile da vedere se non ci vedo con facilità o se passa qualcuno possiamo sparare ok che so che so stanno lasciando roba vabbè noi ce l'abbiamo l'ho prenduta le munizioni ok dobbiamo andare per questa parte e purtroppo dobbiamo correre siamo quasi nella top 20 che comunque siamo singoli per in realtà che si accopre però siamo singoli dobbiamo spiegarci che sta finendo adesso è pure notte eppure è complicato vedere dove si trovano i nemici comunque si mi sa che lascerò un sondaggio che metterò alcuni videogiochi che ho sulla playstation e farò decidere a voi quale volete che porti sul canale ovviamente poterò pure altri video su nintendo switch in compagnia di nico 007 probabilmente e adesso devo passare per di là ok ok non prendo danno attraversiamo troppo adesso qua non so proprio in un punto bellissimo vai passiamo per di qua siamo 22 persone cioè sono sempre tantissime però comunque non so nemmeno poche qui speriamo di almeno arrivare nella top 10 top 20 bene ok forse qua ancora non c'è nessuno però ecco sì invece penso che là ci sia qualcuno no spero dobbiamo cercare di muoverci con calma che forse qualcuno ci può vedere a parte del mare poche qua non vedo salite però per salire ecco si sta distringendo tutto ora ora come facciamo salire ecco là c'è un sentiero siamo quasi nella top 20 siamo adesso vabbè possiamo se ci uccidono se ci uccidono siamo arrivare a 21 dobbiamo stare attenti c'è qualcuno e no ci stanno sparando e no siamo morti siamo riusciti a fare niente vabbè siamo arrivati a top 20 perché vabbè la nostra squadra è arrivata a undicesima che comunque vabbè loro in due noi in uno questa mi sarà una partita adesso ne farò un'altra dove probabilmente sono singolo e vabbè ci vediamo tra poco e adesso siamo di nuovo qui sopra vediamo un attimo dove andare possiamo non lo so possiamo andare in una zona forse centrale andiamo al magazzino qua e muffito ok adesso possiamo saltare vedo un attimo la direzione che è giusta andiamo verso di qua lo vedo che alla fine è quello di prima eccolo gli sto sopra speriamo di non incontrare ecco qua c'è un botto di gente già da subito ok forse non ci siamo portati nel posto migliore questa volta sono in singolo volevo precisare e comunque vabbè c'è già un botto di gente che sta morendo speriamo che non ci uniamo a loro adesso cerchiamo di tenere il risotto per un po' di tempo faccio qualcosa prendiamo metallo ecco qua dentro c'è una cosa vediamo se riusciamo prenderla dov'è oh c'era una cassa prima vabbè andiamo qua ecco qua c'è della roba ok ottimo anche qua c'è una pistola che penso che sia epica che sia buona ok se no tro non mi spara sono morto già subito potevo fare la kill invece sono morto vabbè ragazzi diciamo concludiamo qua velocemente questo episodio mi raccomando lasciate un like iscrivetevi rispondete ai sondaggi che vi lascerò non adesso ma prima vabbè lascerò prima diciamo durante la partita quando l'avrò detto per la prima volta allora per ces commenti è tutto ci vediamo nel prossimo episodio ciao